Erano tre partite che mancava l'appuntamento con la vittoria, finalmente arrivano questi tre punti che sono fondamentali per muovere la classifica. Sì, i tre punti ci danno morale, ossigeno e voglia di riprendere quello che avevamo un pochettino lasciato in queste due partite, Mesagne e Vieste, queste due trasferte. Però al di là dei tre punti voglio mettere l'accento sul valore e sul cuore di questo gruppo che nonostante tante difficoltà stanno andando oltre e non mollano mai. Questa vittoria è tutto merito loro, è ampiamente meritata e quindi sono contento soprattutto per questo motivo. Si aspettava qualcosa di più dal mercato di dicembre forse? Non voglio entrare nel merito, non è il momento giusto questo. Io sono abituato a lavorare con il materiale a disposizione, cercando di migliorare ovviamente. E quindi adesso si va avanti anche perché si è dimostrato oggi che questo gruppo può fare bene. Oggi abbiamo incontrato, secondo me, una squadra con uno degli organici migliori della categoria. È inutile elencare i nomi della squadra avversaria perché sono rinomati e quindi io ripartirei con questo gruppo di ragazzi e dare merito di nuovo a loro. Marco Monopoli si è inserito bene insomma nel gruppo. È il vero colpo di questa squadra nel mercato di dicembre? Sì, sì, esatto. Marco è un giocatore che con le sue caratteristiche può far male a qualsiasi difesa in questa categoria. È un lusso ed è un ragazzo serio, un professionista e quindi sono contentissimo per lui.